Questo è un ottimo piazzamento che rileva la qualità del liceo scientifico Casimili. Devo sottolineare che questi risultati sono stati confermati anche da altri dati forniti dal Ministero. Le stesse prove in base di italiano e matematica svolte dalle classi quinte nel 2022 hanno avuto esiti nettamente superiori a quelli regionali e nazionali. Stesso andamento può essere verificato nei risultati a distanza dei nostri allievi. Al secondo anno di università, infatti, ben l'85% degli studenti ha conseguito nell'area scientifica più della metà dei crediti a fronte di una percentuale regionale e nazionale che si aggira intorno al 60%. Grazie per la visione!